Ora, scordiamoci i controlli. L'unica cosa che potranno controllare è a fare i spiacopi, cioè a vedere se i frenzati si avvicinano a un metro di distanza. E' l'unica cosa che potranno controllare. Per il resto è tutto a mezzo. Cioè tu trovi il posto di blocco, ma vi imparo un segreto, va bene, ok. Vi fermano la battuglia dei vigili urbani, dove stanno andando? A comprare il gelato. E me lo vado a mangiare a casa. Non vi possono dire nulla. Quindi è inutile che dite quanta gente c'è in giro, quando ce ne sarà in giro, quando ce ne sarà negli ospedali, quando ce ne sarà negli ospedali. Ricordatevi queste parole. Ricordatevi queste parole. Ecco perché io vi prego, vi scongiuro, fate attenzione. A voi ragazzi, a voi anziani, vedo gli anziani, i capacandiri, i manarroti che vanno guardando, non cazzo è. Statevi a casa. Ora si fa pericoloso. Ora venite, oh creatore, noi i pegnatiri, venite. Ciao!